Un centro di aggregazione per praticare sport come skateboard e surf, formazione civica per scuola di infanzia e primaria e per la terza età ed ancora uno sportello che lavori concretamente per l'integrazione in Salento dei cittadini stranieri o l'organizzazione di reading filosofici. Sono solo alcune delle idee presentate al bando regionale Principi Attivi, l'iniziativa che promuove la partecipazione dei giovani pugliesi allo sviluppo del territorio attraverso il finanziamento dei progetti pensati e realizzati da giovani entro i limiti d'età di 32 anni. Ma se da una parte la Regione per quest'anno ha ridotto del 30% il budget per i progetti vincitori, dall'altra l'amministrazione comunale di Lecce ha attivato un settore per lo sviluppo e l'attuazione di iniziative rivolte ai giovani per offrire loro opportunità di crescita e integrazione sociale. Il sindaco Paolo Perrone ha incontrato alle officine Cantelmo i gruppi partecipanti al bando di Principi Attivi. Molti nostri giovani concittadini troveranno la loro strada personalissima per un'occupazione, ma soprattutto perché le idee imprenditoriali presentate oggi, se realizzate, potrebbero veramente contribuire alla crescita di questa comunità. Metteremo a disposizione una serie di convenienze per favorire la realizzazione di questi progetti, dall'utilizzazione degli immobili comunali a una serie di servizi di vario genere che noi offriremo a tutte quelle idee che verranno finanziate, ma anche proporremo a quelle che invece non verranno finanziate, in modo tale da dare la possibilità anche a coloro per i quali non hanno avuto accesso al finanziamento, di poterla realizzare comunque.